Ecco, questo incontro era stato programmato in origine per la settimana successiva a quella in cui la dottoressa Farida Simonetti, direttrice della Galleria di Palazzo Spinola di Genova, aveva parlato degli Spinola e della villa qui della Pagana. Ci eravamo messe d'accordo per dividere l'argomento in due sezioni, il primo dedicato agli ultimi Spinola e alla villa e invece io avrei dovuto parlare della chiesa che è legata comunque agli Spinola. Poi ci sono stati, io ho avuto degli altri impegni e quindi abbiamo dovuto rimandare e oggi presento quello che avrei dovuto dire a novembre. Questo lo dico soltanto perché i due argomenti sono strettamente collegati e anzi questo nasce proprio dal discorso che ha fatto la dottoressa Simonetti sulla storia della villa che è legata nell'Ottocento soprattutto alla Giacomo Spinola, alla storia della chiesa. E come ha detto la dottoressa Simonetti, la villa, chiamiamola la villa della Pagana, appartiene alla famiglia Spinola a un ramo diverso da quelli che erano all'epoca nel Settecento i proprietari del Palazzo di Pelliceria. Apparteneva sicuramente dal 1761 al ramo degli Spinola di Luccoli e sono poi questi Spinola di Luccoli quando si è estinta la casata degli Spinola di San Luca che sono diventati i loro eredi e quindi hanno inglobato nel loro patrimonio il Palazzo Spinola di Pelliceria. Quindi gli Spinola di Pelliceria estinti nel 1824 non hanno niente a che fare con la storia della villa e di San Michele. Mentre l'altro ramo, quello di Luccoli, che appunto poi è diventato erede degli Spinola di Pelliceria, che sono proprietari, sicuramente utilizzavano la villa dal 1761 e l'avevano avuta per via ereditaria con un dai Cattaneo, con un testamento che è stato a lungo, diciamo, controverso, per cui in virtù di un testamento del 1739 sono passati poi 20 anni, quindi le lungaggini non esistono oggi, esistevano anche in passato. Quindi già dagli anni, negli anni 20, la villa era proprietà di due fratelli Cattaneo. Non sappiamo la notizia, ma la prima notizia, la più antica sulla villa, risale al 1668, quando la villa risulta di proprietà di una Angela Maria Orero. E come sia stato, mentre si capisce il passaggio dai Cattaneo agli Spinola, non si capisce il passaggio dagli Orero per il momento, perché i documenti non l'hanno ancora rivelato. In questo l'archivio che è conservato a Palazzo Spinola è stato fondamentale, oltre ai documenti che sono qui alla chiesa di San Michele, che hanno dato origine, già oltre dieci anni fa, la pubblicazione di un libro molto interessante. Quindi quel passaggio si conosce, il passaggio da Angela Maria Orero ai Cattaneo invece non si conosce, o se ci sono stati degli altri proprietari in mezzo, però possiamo inquadrarlo in quel fenomeno di sostituzione dei proprietari locali, perché gli Orero erano originari di questa zona, alla nobiltà genovese, una cosa che è successa praticamente in tutta la riviera. Dagli inizi del Seicento, quindi quando c'erano delle proprietà disponibili, i nobili genovesi sono arrivati e credo che sia successa una cosa del genere. Ma a noi quello che interessa oggi è questo nome, Angela Maria Orero, che i documenti indicano come figlia di Gerolamo. Evidentemente questa paternità comune ci dà per certo che Angela Maria Orero era sorella del personaggio diciamo che più famoso di San Michele di Pagane, cioè Francesco Orero, famoso perché è stato il committente della pala di Van Dyck. E bisogna dire che la chiesa di San Michele non è una chiesa gentilizia, è legata alle famiglie che abitano nella villa, ma nasce come chiesa della comunità, testimoniata come chiesa parrocchiale fin dal più antico elenco di chiese della diocesi, che risale al Trecento, e quindi ha sempre svolto le funzioni di chiesa parrocchiale. Voi sapete che le chiese gentilizie sono quelle che appartengono invece a una famiglia nobile, però le famiglie proprietarie della villa hanno sempre avuto un rapporto stretto con la chiesa, fino dai tempi di Francesco Orero, committente di quello che resta comunque il quadro più importante, più noto, e quello che è stato realizzato per questa collocazione, che è quello di Van Dyck. E attorno a questo quadro sono fiorite tante leggende, posso dire. Si voleva che Van Dyck l'avesse, tornando da Palermo, ecco, l'avesse dipinto perché era stato ospitato, sono tutte... Poi c'è stata una confusione fin dalle fonti sulla collocazione del dipinto. Insomma, ci sono state una serie di cose che hanno portato, fino a tempi recentissimi, a trascurare quest'opera. Anche perché il dipinto è un po' sciupato, per un motivo abbastanza banale. Con l'andare del tempo i dipinti tendono a scurirsi e allora i volenterosi vanno là e puliscono, ma pulendo tolgono le parti più superficiali del colore che sono proprio le parti più chiare. E quindi i dipinti col tempo si scuriscono. E quando nel 97 è stata fatta quella grande mostra, importantissima a Genova su Van Dyck, che credo rimanga in assoluto la mostra che ha avuto più visitatori, con i colleghi che organizzavano, che in un primo momento non avevano inserito questa tela, ho detto, ma sai, non siamo sicuri. Ho detto, ma proviamo. Per fortuna io lavoravo in soprintendenza e in soprintendenza c'era un laboratorio di restauro e quindi ho detto, la portiamo qui. Vediamo che cosa può venire fuori se proprio il quadro è sciuppatissimo oppure si rivela per una cosa che non può essere Van Dyck, pazienza. E invece il restauro è venuto bene e quindi l'opera è stata presentata alla mostra e da quel momento è rientrata negli studi su Van Dyck a pieno titolo. Ma io parto da Palermo, a questa grande tela con la Madonna del Rosario, è commissionata per l'oratorio del Rosario perché Van Dyck, arrivato da Anversa a Genova nell'autunno del 1621, non è stato fisso a Genova, ma un po' girato anche per conoscere l'arte italiana, spinto dal suo maestro Rubens, è stato a Venezia, è stato a Roma due volte, è stato a Torino, è stato a Milano e quindi però faceva sempre ritorno a Genova. A un certo punto è diventato subito famosissimo come ritrattista. Quando è arrivato aveva 22 anni, ma era già un pittore affermato. Poi i ritratti che ha fatto alla nobiltà genovese l'hanno subito fatto diventare famoso e proprio per fare un ritratto nella primavera del 1624 è andato a Palermo per fare il ritratto del vice re Emanuele Filiberto di Savoia. Se non che appena arrivato a Palermo nel 1624, che è anche l'anno cruciale della scoperta delle reliquie di Santa Rosalia, nel momento in cui era vescovo un genovese, Giannettino Dori, e questo spiega perché il culto di Santa Rosalia arriva presto in Liguria e in quell'anno scoppia la peste. All'inizio dell'estate scoppia la peste e Van Dijk, questo l'hanno messo in rilievo, si pensava che il suo soggiorno fosse stato breve, di qualche mese, e invece si è scoperto che è stato lungo e durato più di un anno perché nessuno poteva partire. Addirittura lo stesso vice re morto di peste dopo che Van Dijk gli aveva fatto il ritratto non ha potuto essere esportato in Spagna per la sepoltura perché c'era un blocco totale della navigazione. Quindi Van Dijk è rimasto bloccato a Palermo. Queste notizie sono abbastanza recenti, quindi ha avuto una produzione, è stato più di un anno, pian piano si sta ricostruendo e la commissione più importante che ha avuto è stata proprio per questa grande tela, la commissione che risale al 22 agosto del 1625. Quindi è stato più di un anno, soltanto alla fine del 25 Van Dijk riesce a tornare a Genova, senza passare da San Michele di Pagana. riesce a tornare a Genova e l'esecuzione di questo dipinto avviene tutta a Genova e sappiamo che poi verrà spedito a Palermo dopo che Van Dijk sarà partito per Anversa all'inizio del 1628. Lo faccio vedere intanto perché chiarisce che questo soggiorno palermitano è un soggiorno importante e lungo e lo faccio vedere anche perché è l'unica altra composizione eseguita durante il periodo italiano per una pala destinata a un edificio pubblico, un quadro di soggetto religioso con una destinazione pubblica. Perché Van Dijk quando era a Genova ha fatto anche tanti dipinti, adesso ultimamente è stato fatto un libro su quello della Cassa di Risparmio che è una Madonna con bambini, cioè dei dipinti di soggetto religioso ma sempre destinati a collezioni private. Per le chiese non si sa se per una congiura dei pittori genovesi che non gli hanno fatto spazio o perché i genovesi preferivano utilizzarlo come pittore di ritratti, Van Dijk non ha lasciato nessuna opera destinata a una chiesa. L'unico dipinto del periodo genovese destinato alla visione pubblica è proprio questo che si trova qui a San Michele di Pagana. Di questo quadro si sa per fortuna tanto, anche se proprio sull'attribuzione, sul nome di Van Dijk che nessuno ormai mette in discussione, ci sono stati una serie di fraintendimenti per cui il primo scrittore, storiografo, storico dell'arte non si può dire, storiografo, che parla delle opere di Van Dijk in Italia, cita questo dipinto che Bellori scrive a Roma, 1670, ma lo descrive, dice correttamente il soggetto, dice il Cristo con San Francesco e il quadro di colui che aveva ordinato il dipinto, ma dice che si trova a Monterosso. Soprani, che scrive a Genova, lo storiografo genovese, e poi nello stesso periodo, dice che si trova a San Michele, che c'è questo dipinto di Van Dijk, si trova a San Michele di Ruta. Quindi un po' di confusione, tant'è che questa citazione di un quadro a Monterosso è risposta fino agli studi degli anni Ottanta, per cui si diceva questo Van Dijk, ma Van Dijk anche quello di Monterosso, vi farò poi vedere che è una cosa totalmente diversa. Il dipinto quindi cadute, tutte le fantasie sulla possibile esecuzione in loco, caduta la possibilità di confonderlo con altri dipinti, perché quello di Monterosso è una crocifissione, ma non ha San Francesco il donatore, possiamo essere sicuri della sua storia. La prima notizia del dipinto si ha nel testamento di Francesco Rero, quindi possiamo il dipinto, oltretutto siccome Van Dijk va via dalla Liuda Genova alla fine del 27, abbiamo ormai un momento strettissimo tra il 26 e il 27, allora un anno non fa differenza, quindi è proprio la sua esecuzione contemporanea a quella del dipinto destinato a Palermo. Dicevo, la prima citazione si deve al testamento di Francesco Rero, che nel 1643 la prima notizia dell'esecuzione di una cappella nella chiesa di San Michele risale al 1627, il primo contributo per la costruzione della cappella, quindi il quadro perlomeno era commissionato, se non finito, ma insomma poi Van Dijk parte nel 27, allora proprio anche se non sappiamo esattamente al giorno l'esecuzione del quadro, avere un periodo che ormai è ristretto a due anni, 26-27, è già un'adattazione sufficientemente circoscritta e precisa. Nel testamento Francesco Rero dà disposizioni perché si costruisca l'altare, l'altare della chiesa, questo, risulta in costruzione e dice per collocare il dipinto che adesso si trova nella mia casa di Villa San Michele e quindi è certamente questo, quindi è stato collocato alla metà degli anni degli anni 40, ma abbiamo da quel momento lo possiamo seguire. Interessante anche il fatto che abbia fatto perché era destinato alla cappella funebre di Francesco Rero e quindi abbiamo delle notizie abbastanza precise. La struttura dell'altare, anche se poi c'è stato uno spostamento all'interno della chiesa e un piccolo cambiamento nel fastigio dell'altare, però l'incorniciatura è quella e tra l'altro sui basamenti delle colonne Francesco Rero ha fatto che si accende questo? No? Non ci riesco, trovo complicato. E sui basamenti delle colonne ha messo un suo stemma e Francesco Rero non era un nobile, faceva, svolgeva il mestiere di aromatario, cioè era un commerciante di profumi insieme con il fratello Bernardo. Ecco, qua vediamo il dipinto meglio isolato dall'altare e quindi è esattamente Francesco Rero che vediamo inginocchiato ai piedi del crocifisso presentato da San Francesco quindi siamo sicuri che sia lui perché quando vedete questo gesto di un santo che pone la mano sulla spalla del donatore vuol dire che il donatore si chiamava con il nome del santo e alle spalle c'è ancora San Bernardo de Chiaravalle vestito di bianco perché Francesco Rero aveva oltre a questa sorella che è venuta fuori dai documenti anche un fratello che si chiamava Bernardo lavorava con lui a Genova e che lui nomina non avendo figli suo erede evidentemente poi dal fratello più giovane Bernardo i beni di San Michele sono passati a la sorella e la storia ve l'ho già raccontata si tratta di un dipinto di grande forza pittorica e di grande forza costruttiva e perché ce ne rendiamo conto perché noi a volte quando guardiamo le cose le guardiamo si dicendo del seicento eccetera però abbiamo negli occhi anche tutte le cose successive allora il procedimento quello che dobbiamo fare noi è cercare di togliere dalla nostra mente le immagini successive ma prima fino a quel momento come si era rappresentata la crocifissione Vandica ha seguito un filone che già era la crocifissione il tema più diciamo diffuso nella cristianità ma ha avuto un'evoluzione nella rappresentazione oppure i quadri fino a immediatamente prima erano diversi allora e allora si capisce meglio qual è la novità qual è la forza dell'innovazione di un dipinto perché questo è un dipinto fortemente innovativo e allora vi faccio vedere proprio a Genova pochissimi anni prima che cosa era stato dipinto questo è un quadro che nella chiesa del Gesù di un pittore francese Simone Vuet che è stato comunque per un periodo a Genova dipinto nel 1622 quindi siamo proprio praticamente allo stesso momento vedete che c'è una anche se il Cristo è visto in diagonale la rappresentazione della figura di Cristo è completamente diversa questo proprio l'ho voluto mettere per far capire qual è la forza dell'immagine fatta da Van Dijk che poi è diventata diciamo l'origine di tutti i crocefissi barocchi sia dipinti sia scolpiti se andrete a vedere la mostra di Maragliano c'è un'infilata di dieci crocefissi che ripetono esattamente ancora il modello van Dijk qui invece vediamo Cristo sulla croce ma senza nessuna espressione di sofferenza con i piedi poggiati con i quattro chiodi non messi uno sull'altro ma poggiati una fianca all'altro su un supedaneo quindi è in croce ma non è un Cristo morente ecco non ha espressione di sofferenza e quindi proprio quello che fa Van Dijk è di ecco dare il massimo di drammaticità alla figura del Cristo che intanto è appeso alla croce con le braccia molto in alto rispetto alla testa i piedi uno sull'altro il torso diciamo in tensione e poi questo perizoma bianco che diventa il punto diciamo di attenzione dell'osservatore e questo perizoma che è un drappo bianco dipinto con un'eleganza estrema e quindi vedete che differenza proprio a Genova quindi non è che sono andata a cercare una cosa di un'altra zona una cosa lontana fiorentina una cosa fatta a Genova due tre anni prima che forse Van Dijk ha visto perché quello è esposto in chiesa quindi probabilmente l'ha anche visto e quindi quanto la sua immagine sia diversa non era la prima è l'unico crocifisso in una pala d'altare ma Van Dijk aveva già fatto sperimentato come rappresentare in maniera drammatica la figura di Cristo in composizioni più piccole se ne conoscono tra quelle citate dalle fonti e quelle rimaste almeno tre quattro se ne sa che ne ha fatto una a Roma per un cardinale ne ha fatto una almeno quando era a Palermo ne ha fatto una forse che è andata a Napoli e questa che ormai è riconosciuta come opera di Van Dijk ma è molto più piccola perché il quadro di San Michele è alto più di tre metri queste sono un metro e mezzo queste tele quindi l'immagine è decisamente più piccola conservata a Palazzo Reale di Genova e quindi questo proprio ci fa vedere che non è una novità assoluta quella della rappresentazione del crocifisso come qui a San Michele però ecco e a San Michele c'è il contesto che è diverso e soprattutto questa destinazione ha un altare che doveva della cappella degli Orero e qui vediamo Francesco Orero in preghiera con un vestito nero austero però ecco questo è un ritratto è un vero e proprio ritratto e a questo proposito vi ho messo proprio per confronto non è uno dei ritratti dei nobili genovesi rappresentati con i vestiti di gala eccetera ha un abito normale diciamo e possiamo accostarlo ecco a questo ritratto che sicuramente è fatto da Van Dijk prima di partire dall'Italia sono i due fratelli De Weil che sono due pittori fiamminghi che stavano a Genova di cui lui quando era a Genova era ospite e quindi andando via gli ha lasciato questo ricordo e ha fatto il ritratto ai due fratelli ugualmente rappresentati in vesti non banali ma non in vesti di gala e sapete Genova è stata per secoli la diciamo il punto di riferimento di tutti i pittori fiamminghi che venivano e non solo a Genova ma anche in Italia è stato a Genova è passato per breve tempo anche Rubens ma c'era una colonia di pittori fiamminghi i De Weil i Jan Ross ma c'erano stati nel Cinquecento c'erano nel Quattrocento voi pensate che il primo pittore che viene da Bruges perché all'inizio è Bruges poi diventa Anversa perché Bruges il porto non funziona più agli inizi del Cinquecento e quindi viene spostata la sede ad Anversa la prima citazione di un pittore fiammingo in Liguria risale tale Alessandro di Bruges del 1408 quindi è una costante proprio nell'arte genovese questo rapporto d'altra parte qui il politico della Cervara il politico di San Lorenzo della Costa cioè che i fiamminghi fossero particolarmente apprezzati in Liguria se c'è un posto in cui lo si può dire con tranquillità è proprio questo e perciò ecco quindi anche questo ci conferma questo dipinto è datato ugualmente al 27 quindi ci conferma che ci troviamo proprio alla diciamo alla fine del soggiorno di Van Dijk che poi deve rientrare è morto il padre eccetera alla fine del 27 massimo inizi del 28 ma probabilmente già ancora nell'autunno del 27 e deve rientrare ad Anversa e finisce questo periodo importantissimo per lui per la sua formazione perché la conoscenza dell'arte italiana che vede a Roma a Venezia a Mantua è fondamentale ma resterà fondamentale soprattutto per la pittura genovese successiva che è della porto che senza la porto di Rubens e di Van Dijk non si può capire e vediamo adesso dopo che cosa viene ecco è un dipinto che comunque è stato famoso perché vi ho fatto vedere vi ho messo qui con due le immagini oggi non sono un granché dovete lavorare un po' con la fantasia ma due copie seicentesche una piccola quella che vedete sulla destra quella a colori che è conservata a Palazzo Spinola non si sa come sia arrivata l'altra un po' più grande che viene dalla chiesa di Levanto quindi vuol dire che il dipinto ha avuto nel 600 una sua notorietà al punto da avere anche delle copie ecco e qui vi faccio vedere il famoso crocifisso Cristo tra totalmente diverso anche perché il soggetto non è non c'è San Francesco non c'è Donatore ma ci sono la Madonna e San Giovanni Evangelista ai piedi della croce e questo dico ancora fino agli anni 80 veniva questa cosa che poteva ci si arrovellava e gli studiosi poi in questo sono bravi a dire che uno studioso 1980 uno studioso americano che è questo perché Bellori aveva detto che a Monterosso c'era un crocifisso di anni però Bellori sbagliando la collocazione dice però che c'è Salvatore e San Francesco è il proprietario del quadro quindi non può corrispondere a questo e recentemente proprio recentemente una cosa dell'anno scorso due anni fa al massimo è stato finalmente individuato in un altro fiammingo che è presente a Genova proprio nello stesso periodo che autore questo Gerard Segers e l'attribuzione è degna di fede perché è fatta con confronto con opere sicure di questo pittore è inviata da subito a Monterosso la costruzione del convento dei Capuccini di Monterosso comincia nel 19 e va avanti tutto il decennio quindi praticamente contemporanea però vedete che proprio non c'è possibilità di una confusione ma questo è rimasto però già a Ratti nel Settecento che dalla collocazione giusta del dipinto di San Michele dice è del Vandic di questo dice dice sì del Vandic quindi un pochino lui insomma si era messo in e adesso abbiamo la conferma che è una cosa totalmente diversa ve l'ho messo proprio perché siccome ancora gira ma quello di Monterosso che cosa è qua ecco vedete che è una cosa che non ha niente a che fare con Vandic però eseguito negli stessi anni e anche qui vedete che differenza nella rappresentazione proprio come impostazione del dipinto quindi il dipinto più famoso di San Michele è legato a questa committenza Orero allora la domanda che ci possiamo fare è che cosa c'era nella chiesa di San Michele nel momento in cui Francesco Orero che probabilmente era parente del parroco che agli inizi del Seicento ha fatto una ristrutturazione dell'edificio rendendolo moderno e c'era già qualcosa ecco la ristrutturazione dell'edificio e tutte queste ristrutturazioni degli inizi del Seicento nascono dalle direttive del concilio di Trento e dai visitatori apostolici 1580 e da lì comincia il passaggio in Liguria in Liguria non esiste il rinascimento ma si passa dal Medioevo le cose medievali durano resistono non danno fastidio al gusto della persona fino alla fine del Cinquecento poi veramente il gusto cambia e contemporaneamente ci sono queste nuove disposizioni la principale che il Santissimo si espone sull'altare e non più a lato dell'altare in una nicchia ma questo comporta una trasformazione dell'altare uno spostamento dei dipinti non è una cosa soltanto che riguarda soltanto la liturgia ma riguarda anche tutto il contesto architettonico della Chiesa e allora questa ristrutturazione degli inizi del Seicento si conclude con la realizzazione la commissione proprio della abitanti del borgo di San Michele a Bernardo Castello di questo dipinto che raffigura San Michele che vince il diavolo e contemporaneamente ha in mano questa bilancia che serve che gli usa per pesare le anime e decidere quali sono i buoni e quali sono i malvagi è un dipinto importante che tuttora nella collocazione nel presbiterio della Chiesa e quindi c'era già quando questo dipinto realizzato tra il 1608 e il 1612 per fortuna la Chiesa di San Michele ha conservato tanti documenti che sono stati studiati quindi non c'è bisogno che ci affidiamo alla fantasia ma possiamo tranquillamente ecco abbiamo dei dati storici Bernardo Castello in questa zona anche qui a Santa Margherita ci sono almeno due dipinti uno nell'oratorio di San Bernardo e uno nella chiesa di Santa Margherita ma era uno dei pittori genovesi all'epoca più famosi stato a Roma stato in rapporto con poeti eccetera e quindi c'era già questo dipinto successivamente questa è anche una comunità che ha avuto anche dei benefattori l'altra opera che precede l'intervento poi fondamentale del Marchese Spinola è questa Madonna del Rosario che adesso è esposta attribuita alla bottega di Maragliano contemporanea a Maragliano quindi i suoi allievi i suoi collaboratori quelli che più o meno orecchiavano i suoi modi che sappiamo essere già in chiesa nel 1735 quando viene pagata la colorittura della statua perché le statue ve lo diranno poi alla mostra venivano consegnate dallo scultore senza colore poi si chiamava un pittore che si anche a distanza di anni quindi nel 1735 questa scultura viene dipinta esisteva esisteva già e poi un altro invece un altro dono alla chiesa è questo crocifisso che ha esposto questa dieci crocifissi che sono alla mostra sistemata in maniera molto bella molto scenografica che è l'ultima opera di Maragliano questa dono del rettore dell'epoca della chiesa quindi è una chiesa che ha avuto anche non soltanto la comunità si è data da fare per ornare la chiesa ma anche ha avuto dei doni e questo è stato donato nel 1738 ed è quasi sicuramente l'ultima opera di Maragliano perché Maragliano muore nel marzo del 1739 a questo momento ecco siamo al 1730 38 nel giro pochi anni dopo abbiamo detto entrano in possesso della villa nel 1761 gli Spinola e a questo punto abbiamo una serie importante l'intervento di Giacomo Spinola che è colui che erediterà che diventerà erete degli Spinola di Pelicceria una figura molto importante perché era veramente appassionato di arte vi dico soltanto una cosa dai documenti che sono conservati per fortuna oltre al museo è stato lasciato l'archivio ormai sono almeno 20 anni che stanno studiando e tirano fuori sempre delle cose nuove e Giacomo Spinola è quello che ha comprato l'Antonello da Messina che è arrivato alle collezioni Spinola nel 1800 cioè quando ormai era anche proprietario del palazzo di Pelicceria ha comprato questo dipinto che adesso è conservato quindi era a palazzo Spinola quindi era un intenditore di arti ha donato dei suoi quadri all'Accademia Ligustica perché poi è stato erede della sua famiglia e degli Spinola di San Luca la moglie è stata erede della famiglia Balbi quindi avevano dei quadri in casa che non sapevano più dove metterli e allora ne hanno distribuito vari poi hanno fatto delle donazioni a Genova per la chiesa nuova all'epoca dell'Immacolata quella di Via Sarotti e poi delle cose anche nei loro possedimenti piemontesi ma il primo la prima chiesa che è beneficiaria dei doni del Marchese Spinola è proprio San Michele al momento il Marchese Spinola nasce nel 1780 si sposa nel 1802 il padre muore nel 1804 da quel momento e lui può disporre di tutti i beni della famiglia il primo intervento qua non si sa se con un prestito poi restituito o in parte anche con un dono è questa figura di San Michele soltanto la figura la cassa processionale in argento sarà realizzata dopo di questo scultore seguaccia perché poi Maragliano ha continuato fino anche nell'Ottocento questo scultore ma la raffigurazione è abbastanza tradizionale Bartolomeo Carrea questa scultura realizza nel 1810 con intervento nel pagamento di Giacomo Spinola lo scultore realizza questa scultura 1810 è il primo intervento di Giacomo Spinola che evidentemente era molto legato a questi a questi luoghi e pochi anni dopo nel 1815 faccio vedere anche quella dopo dà in deposito alla chiesa di San Michele queste due tavolette vedete questi due tagli verticali ecco vedete questi tagli verticali le due tavolette erano state ingrandite perché sono lunghe e strette perché in origine sono state gli sportelli di un piccolo trittico per devozione privata o anche da viaggio insomma ma non è piccolissimo perché 80 per 30 quindi però per un altarolo di casa e allora per renderli diciamo autonomi rispetto a cosa ci fosse nella tavola centrale c'era una tavola centrale poi due sportelli che si chiudevano queste sono le ante degli sportelli purtroppo i dipinti sono stati parchettati sul retro quindi non si può più sapere se erano dipinti anche sul retro perché di solito questi che si chiudevano erano dipinti anche sul retro sono stati quindi resi composizioni autonome e sono stati attribuiti dopo gli restauri recenti a un pittore di Anversa attivo verso il 1530 1540 lui li deposita nella chiesa sono diventate proprietà della chiesa chiedo non più negli anni 50 proprio dagli ultimi spinola è stato fatto questo ma non è questo l'unico intervento del marchese Spinola ecco questa è l'altra valva del trittico con la fuga in Egitto quindi sono tavolette sono esposte all'inizio della navata ma interessanti e siamo questo deposito del 1815 ma l'intervento più grosso del marchese Giacomo Spinola come benefattore della chiesa dal 1818 risulta anche diciamo protettore della chiesa è una serie di quattro quadri quattro quadri che vengono tutti e quattro da Genova e anche su questi recentemente molto recentemente per la pubblicazione che è stata fatta l'anno scorso in occasione della 60 anni della donazione Spinola questa pubblicazione sono state aggiunte delle notizie rispetto a quello che si sapeva sui quadri arrivati comprati e donati donati dal marchese Spinola alla chiesa di sono questi quattro uno due tre e quattro ora torniamo indietro nel 1818 di questi quadri di alcuni si sa anche la provenienza allora noi non capiamo la nascita dei musei e la costituzione delle collezioni ottoscientesche se non ricordiamo questo avvenimento traumatico della chiusura delle chiese degli ordini religiosi dalla fine del settecento voluta dalla Repubblica Ligure e poi proseguita anche da Napoleone quindi sul mercato sono arrivate una quantità enorme di dipinti anche perché da chiese molto grandi e quindi il mercato era in quel momento particolarmente ricco e il marchese Spinola non si è lasciato scappare l'occasione e ha destinato alla chiesa di San Michele e queste tele la prima che vediamo di Giovanni Battista Carlone viene dalla chiesa di San Domenico ma non da un altare qualunque della chiesa di San Domenico che era la chiesa più grande di Genova demolita per fare spazio a Carlo Felice dalla cappella del Rosario che nelle chiese domenicane è la cappella più importante perché la devozione del Rosario che si vuole far risalire allo stesso San Domenico è proprio patrocinata dai domenicani è diventata la devozione più consueta a partire dalla battaglia di Lepanto del 1571 e allora questa cappella che era a lato dell'altare maggiore sulla sinistra per chi guardava era cappella destinata proprio alla Madonna del Rosario ma non era quindi non era solo un altare era una cappella quindi un vano più importante ma era una cappella fatta in due si componeva di due vani e aveva il primo vano era un vano quadrato con una piccola cupola e poi c'era un vano più piccolo con una piccola abside l'opera principale una scultura della Madonna in marmo della Madonna del Rosario e poi la raffigurazione della cappella erano destinate proprio all'illustrazione dei misteri del Rosario per cui nella cupola e nella volta di questo vano retrostante erano i misteri gloriosi naturalmente ridotti a quattro nei peduci della cupola erano i misteri dolorosi e sulle pareti del primo vano e del secondo erano i quattro misteri gaudiosi il primo di questi misteri è l'annunciazione a Maria quindi anche di questo possiamo dare una data precisa le cose che vi sto dicendo sono tutte frutto di ricerche di ricerche recenti perché si diceva si viene da San Domenico di Genova e finì invece adesso si è proprio capito bene e di fronte a questo c'era un dipinto con la natività di un altro pittore che è conservato adesso all'Accademia Ligustica invece le altre novità riguardano questo dipinto con il sogno di Giuseppe perché si sapeva dai documenti trovati qui si sapeva il soggetto di tre quadri donati dal Marchese e del quarto non si diceva mai il soggetto dai documenti pubblicati l'anno scorso si è scoperto che il quarto quadro era il sogno di San Giuseppe è stato attribuito giustamente a Valerio Castello che abbiamo dedicato anche una giornata l'anno scorso che è il pittore più importante alla metà del Seicento un dipinto da datare a circa 1650 ed è un dipinto che si inserisce segue perfettamente il soggetto del dipinto precedente allora che vuol dire questo è stato importante aver individuato questo dipinto perché vuol dire che il Marchese Spinola non ha destinato a San Michele quattro quadri che ha detto a Tagliaficchi compra quattro quadri che li portiamo a San Michele ma sono stati scelti proprio come soggetto questo soggetto non è stato capito perfettamente Valerio Castello l'ha raffigurato anche in altri in altri dipinti il sogno di San Giuseppe è stato pensato il sogno di San Giuseppe San Giuseppe che è avvertito in sogno di scappare da Betlemme e andare ma c'è un sogno è andare in Egitto c'è un sogno molto più importante di San Giuseppe che è quello quando la Madonna è incinta e San Giuseppe dall'angelo dice non rimandare a casa sua la Madonna come era ad uso all'epoca tienila con te perché il figlio è opera dello Spirito Santo e tu le darai nome Gesù che non si tratti di Betlemme del sogno avvenuto a Betlemme lo confermiamo dal fatto che in un'altra di queste composizioni con lo stesso soggetto Valerio Castello aggiunge in fondo in un ambiente in fondo anche la Madonna in preghiera quindi e poi se guardiamo in basso non so se lo vedete tanto bene ci sono degli attrezzi da falegname quindi è San Giuseppe nella sua bottega di falegname a Nazareth che riceve questa visita dell'anno e allora è importante perché questo quadro si collega direttamente all'annunciazione perché noi abbiamo nei Vangeli Luca che descrive l'annunciazione la visitazione e poi la natività e invece Matteo che parla dell'annuncio a Giuseppe del sogno del sogno di Giuseppe e poi parla dell'arrivo dei Magi danno due racconti separati quindi questo ci permette di dire che i quadri sono stati scelti proprio attorno al tema della natività di Cristo infatti il terzo quadro che è arrivato qui è questo con la scena della visitazione quando la Madonna si recca dalla parente Elisabetta che aspettava la nascita del Battista questo dipinto è un pochino più tardo rispetto agli altri Gio Lorenzo Bertolotto un pittore del Seicento ma non minore un pittore ugualmente importante qui a Santa Margherita avete nella chiesa di Santa Margherita il dipinto che è nel transetto sulla destra che raffigura la Trinità con San Lazzaro eccetera nell'altare della famiglia De Bernardi commissionato da Lazzaro De Bernardi proprio un dipinto di Gio Lorenzo Bertolotto che è un pittore di tutto rilievo e anche di questo sappiamo la collocazione mentre di quello del San Giuseppe finora non si è capito da dove possa venire e sarà difficile anche in futuro a meno che non vengano fuori dei documenti e questo viene dalla chiesa di Genova della visitazione perché è descritto molto bene in una guida settecentesca come un dipinto di grande interesse e infine l'ultimo proprio in sequenza è la natività e questo si era pensato che fosse una copia eseguita al momento perché è una copia del dipinto di Castiglione che si trova nella chiesa di San Luca ma il riferimento è sbagliato perché all'epoca il Marchese Spinola non era ancora nel 1818 non era ancora erede degli Spinola di San Luca evidentemente questo quadro questa copia e quindi non è un quadro eseguito agli inizi dell'Ottocento come si pensava perché anche questo risulta restaurato ma probabilmente già ancora a settecentesco che è stato reperito sul mercato da Tagliafici in questo modo ha composto diciamo un discorso unitario adesso io non mi ricordo esattamente in che sequenza siano nella chiesa se sono messi questi quattro insieme perché era stato attribuito un altro come quarto era stato individuato un altro quadro che non c'entra con queste e quindi si completa questo ciclo dall'annunciazione alla natività con una copia da Castiglione non sappiamo la copia non è fedele all'originale ma manca una parte in basso e una parte in alto non sappiamo se è stata eseguita così se è stata tagliata può darsi che sia stata ridotta nelle dimensioni perché questi quadri sono stati quello di Valerio Castello e l'altro ingranditi la Madonna l'annunciazione forse un pochino rimpicciolita per adattarli alla nuova sede però vedete da queste notizie cioè viene fuori anche un interesse diciamo del Marchese finalizzato proprio a dotare non a dotare di quadri in maniera così casuale ma proprio a dotare di quadri con un tema bene preciso e questa aggiunta della certezza che il quarto quadro di cui non si sapeva sia proprio il sogno di Giuseppe completa veramente questo concetto non è l'unico intervento del Marchese perché ancora due anni prima e poi è finito e non vi preoccupate c'è ancora un ultimo intervento nel 1821 e sempre il pittore Santino Tagliaficchi che era pittore e restauratore contemporaneamente e procacciatore di dipinti per per il Marchese Spinola procura questo dipinto i due dipinti che sono tuttora nel presbiterio ecco in questo caso evidentemente il mercato stava cominciando a soffrire un po' di non c'erano più tanti quadri disponibili e allora sono due quadri che non hanno tra loro alcun rapporto come soggetto e questo non ha alcun rapporto neanche con altre opere della Chiesa è stato attribuito alla bottega di Gregorio de Ferrari quindi siamo agli inizi del Settecento vedete che è sagomato ed è stato poi trasformato in una tela rettangolare per essere inserito nella collocazione attuale degli inizi appunto dicevo un dipinto degli inizi del Settecento raffigura la Madonna con Sant'Anne il bambino e in basso si vedono quello vestito di nero è San Francesco Saverio e l'altro in estasi con la pianeta è San Filippo Neri quindi proprio dei santi di questo non si è riusciti a capire certamente reperiti sul mercato genovese ma non si è assolutamente capito anche per la genericità così dal soggetto non si è capito da dove possa venire infine l'ultimo quadro in questo caso il dono è di due dipinti ecco l'ultimo è questo e Santino Tagliaficchi propone e dà al Marchese Spinola un dipinto da lui stesso eseguito siamo al 1821 il dipinto probabilmente è soltanto di qualche anno anteriore qui ci troviamo davanti a una scena della vita una scena narrata dal Vangelo è Cristo che appare alla Maddalena nel giardino dove era il sepolcro dove Cristo era stato sepolto e vedete che c'è una vanga in primo piano perché la Maddalena quando si sente chiamare pensava vedendolo che fosse il custode del giardino e dice ma dov'è il Signore siamo venuti alla tomba e non l'abbiamo trovata allora Gesù la chiama e dice maestro e dice non trattenermi infatti questo episodio si chiama normalmente quando ancora si davano i titoli in latino non li mettange dice non mi trattenere perché io non sono ancora assalito al padre va e annuncia agli altri la risurrezione e quindi indica questo episodio anche in questo caso però non è un dipinto eseguito per San Michele ma un dipinto recuperato evidentemente a Tagliaficchi era una commissione che non era andata a buon fine e ne ha approfittato per unirlo all'altro e mandarlo alla chiesa di San Michele di Pagana questo lo possiamo dire con certezza questa purtroppo è una fotografia prima del restauro il dipinto è stato restaurato e si vede che anche in questo caso il dipinto è stato ampliato su tutti e quattro lati per adattarlo a questa collocazione ma siccome era un dipinto suo Tagliaficchi se l'è fatto sul suo dipinto ma vuol dire che non era un dipinto eseguito per questa chiesa ma un dipinto che evidentemente gli era rimasto in bottega databile probabilmente a uno o due anni prima e che Tagliaficchi colloca bene nella chiesa e con questo si conclude l'intervento ricchissimo diciamo di donazioni del Marchese Spinola tutte anteriori al momento in cui nel 1824 erediterà i beni del ramo di San Luca quindi Palazzo Spinola di Pellicceria e tutti i beni adesso connessi non finisce qui naturalmente la storia della chiesa perché ci sono poi gli affreschi eseguiti dopo e ancora quindi perché è una chiesa molto ricca però per quanto riguarda il rapporto diciamo strettissimo tra la villa pagana e la chiesa ecco abbiamo potuto ricostruire una storia diciamo tutto sommato precisa a cominciare dal primo benefattore che è il Francesco Rero fino al Marchese Spinola alla fine al 1821 basta finito se qualcuno ha qualcosa da da chiedere ecco spero di non essere stata eccessivamente così di aver detto troppe troppe date troppe e poi vi invito ad andare tutti a vedere la chiesa nella mente tutte le cose che abbiamo detto stasera e ripensare l'arredo della chiesa in questo modo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti